Buonasera, buonasera a voi. Allora, non so se la notizia che sto per darvi è quasi una notizia comica, ma siamo abituati ai comportamenti, alle strategie da parte dei giornalisti e della emittente La7. Allora, la teoria è questa, andate in onda un video che tra l'altro poi sta facendo il giro del web dove si dice che potrebbero essere stati i russi a fare l'attentato dell'altra settimana nel teatro dove si svolgeva un concerto. E questo guardando le facce di alcuni che secondo appunto La7 e non solo avevano delle facce così che facevano sospettare che erano, stavano confabulando qualcosa, architettando qualcosa che erano dei servizi segreti. Allora, guardate, io non lo so, mica ho la sfera di cristallo, però uso un attimino l'intelletto e quello che vi posso dire, avendo letto abbastanza, così per curiosità, per quanto riguarda i servizi dei vari paesi, non solamente quello in Russia ma soprattutto ad esempio quello del Mossad in Israele e altri servizi segreti, vi posso dire che, voglio dire, sarebbe veramente appunto da comica se davvero fosse come ha raccontato e come sta cercando di raccontare La7, no? Perché davvero è un qualcosa che non sta né in cielo né in terra e quindi è semplicemente da escludere perché se realmente dei servizi segreti strategicamente realizzano un progetto del genere, vi posso assicurare che non lasciano minima traccia neppure eventuali facce sospette o cose di questo tipo qua. Su questo credo che è abbastanza facile comprenderlo. No, è ancora una volta, come già successo, se vi ricordate con Nord Stream 2, che la strategia è sempre quella di addossare poi a Putin quello che sta succedendo perché poi lui possa passare, non dico da vittima, ma possa accusare a sua volta l'Occidente. Davvero molto bizzarra e il fatto che sia bizzarra è che insomma in quella circostanza fu poi dimostrato senza ombra di dubbio che invece erano stati gli occidentali, in particolare la Gran Bretagna con l'aiuto dei norvegesi, a sabotare il gasdotto Nord Stream 2. E qui francamente voglio dire, è vero come qualcuno scrive che la stessa cosa hanno fatto i russi nel senso che poco o poche ore dopo dall'accaduto hanno accusato gli ucraini. Però c'è una differenza, li hanno accusati almeno su un elemento, su un elemento incontrovertibile, che nessuno ha potuto contestare e che io non ho letto da nessuna parte non corrispondesse a verità. E cioè che questi quattro che sono stati presi erano in fuga verso la frontiera, verso un'apertura che si era creata verso l'Ucraina. Questo è un dato di fatto, voglio dire. E allora perché questi qui andavano proprio verso l'Ucraina, punto di domanda? Forse perché era al confine più vicino, uno potrebbe dire. Può darsi, però perlomeno, ripeto, è un elemento. E non semplicemente prendendo un filmato e si vede uno che fa una faccia un po' strana, ah è allora dei servizi segreti, allora sono stati loro. Perché francamente io credo che anche da un punto di vista della strategia, per creare poi caos, per permetterla a Russia poi di accusare l'Ucraina di far da vittime, ma fino a un certo punto, perché voglio dire, è un po' un boomerang questo, perché a quanto io so, a quanto io ho letto, questo non ha portato bene a Putin e alla Russia, perché all'interno, al suo interno, ci si è molto soffermati sul fatto appunto della sicurezza, come è stato possibile che, insomma, dei terroristi abbiano potuto in quella maniera entrare e fare oltre 200 vittime. Quindi quasi quasi, anzi non quasi quasi, al suo interno, per Putin è diventato più un problema che a livello di propaganda un vantaggio e poi che bisogno aveva. Casomai avrebbe, se proprio una mente malata dovesse pensare una cosa del genere, l'avrebbe fatto prima delle elezioni e non una volta che è stato appena eletto. Quindi davvero incredibile questa posizione, ancora una volta questo video passato sulla 7 e questa teoria. Con questo vi saluto, vi auguro un buon sabato sera e ci sentiamo domani.